Più che l'inizio di una nuova partita sembrava fosse la prosecuzione di quella vecchia, quella giocata e vinta il giorno di Santo Stefano al Palapoli, non contro una squadra qualsiasi ma al cospetto dei campioni d'Italia in carica della Luba e Banca Marche Treia ex Macerata. Poi però quando Perugia ha cominciato a fare le cose sul serio, per l'ex privia nel diritto Molfetta non c'è stato più nulla da fare. Niente bis di prestigio dunque per i biancorossi di Vincenzo Di Pinto, sconfitti 3-1 sul campo dei vice campioni d'Italia in carica nell'ultimo appuntamento del 2014. Non basta un primo set perfetto per interpretazione tattica lucidità nelle scelte offensive e solidità in difesa. Il sestetto molfettese trascinato ancora una volta dal portoricano Morris Torres se lo aggiudica al photo finish e con la soluzione di misura 25-23. Perugia però è squadra con eccellenti valori e notevoli individualità su tutti Atanasievic, top scorer con 28 punti ed MVP della partita. Il fenomeno serbo, ben supportato dal tedesco From, trascina gli Umbri alla vittoria nel secondo parziale 25-17. Molfetta prova a restare in scia grazie a Torres, autore complessivamente di 14 punti, al solito schett ma non ci riesce. La formazione di Nicola Gerbic scappa via nel terzo set vinto 25-20 e chiude i conti nel successivo parziale con lo stesso punteggio. L'ex Privia, non classificata al giro di Boa, torna così a casa senza punti ma con la consapevolezza di poter mettere in difficoltà anche le big della Superlega maschile come è accaduto tre giorni fa con la Lube. I biancorossi torneranno in campo sabato prossimo e inaugureranno il girone di ritorno con la sfida casalinga contro Milano, già battuto nettamente all'esordio in questo campionato. Il match si giocherà al Palapoli con inizio previsto alle ore 20 e 30. Il match si giocherà al Palapoli con inizio previsto alle ore 20 e 30.